A Trani, Juan Martin Guevara, fratello di C'è Guevara, ospite del Laboratorio di Medicina, narrativa del dottor Maurizio Turturro. Per una serata dal titolo Vi racconto Ernesto. Come si fa a far mettere da parte il personaggio, il C'è, e far emergere la persona, Ernesto? In realtà i miti sono sempre qualcosa che le società, cioè gli uomini. I miti sono parte dell'umanità perché sono creati dagli stessi uomini. Qual è il ricordo più forte che lei ha del C'è? La ultima volta che ci siamo incontrati è nel 61 in Uruguay, dove io ero... Sì, fu nel 61 quando lui aveva 18 anni, lui era già un militante e quello fu un momento molto forte del loro incontro. Oggi cosa resta del mito del C'è? Io non credo che chieda, ma che segui. Più che restare qualcosa, continua qualcosa. Così come sta continuando oggi, dopo 50 anni, probabilmente continuerà ancora negli anni futuri. Anche lei ha fatto diverse battaglie. Una, forse la più famosa, è quella contro la dittatura in Argentina. Cosa ricorda di quei momenti? Prima li chiamavano dicta blanda, cioè la dittatura era quasi un costume, un'abitudine nella storia argentina. Quelle precedenti erano una dicta blanda, cioè morbide. Questa è stata una dittatura molto forte. Sì, questo fu un momento molto forte perché si bloccò uno sviluppo della società in Argentina e i militari decisero di dare un taglio e impedirono questo tipo di sviluppo. Cosa resta oggi della parola popolo? No, no, che resta. Il popolo c'è e resta sempre. E ci sono e restano le classi, così come ci sono i ricchi e quelli molto meno ricchi. Quindi quando gli dicono che queste cose non ci sono più, rimane abbastanza meravigliato.